Si rinnova il tradizionale scambio di aguri tra il comune e il mondo dello sport napoletano. L'assessore allo sport Ciro Borriello ha incontrato questa mattina in sala giunta le associazioni, gli atleti e le istituzioni presenti per l'occasione. Per noi è un piacere fare e rinnovare questo appuntamento perché il mondo dello sport si unisce, sta insieme, cammina insieme, corre insieme, lotta. Quest'anno c'è anche una particolarità perché mettiamo insieme anche il mondo del verde, il mondo dell'ambientalismo, quello dei parchi, quello della società civica che vuole costruire insieme all'amministrazione un percorso, un percorso condiviso che può portare a mio avviso lontano. Un anno importante per lo sport partenopeo in vista delle universiadi che si terranno nel 2019. Una cosa che ci vede protagonisti per questo evento sportivo più grande dopo le Olimpiadi, quindi siamo molto impegnati a ricostruire un po' tutti i plessi sportivi che saranno tutti rinnovati per poter ospitare questa manifestazione. È l'anno anche del sacrificio, questo lo dobbiamo dire perché molti impianti chiusi, ma molti impianti che poi verranno finalmente messi a posto, ristrutturati, riassegnati in maniera più funzionale, in maniera adeguata, questo per la crescita collettiva dello sport napoletano.